Lo sai che gli squali ci avvertono se i mari sono inquinati? Per scoprire questo ed altro, partecipa alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Venerdì 27 settembre, sotto il segno dell'inclusione, Super Science Me, Research is your Elevation, volerà alto e arriverà negli Atenei, nei centri di ricerca e nelle città della Basilicata e della Calabria. Fatti coinvolgere da esperimenti, dimostrazioni, giochi, spettacoli, concerti e partecipa a visite guidate nei laboratori e nei musei. Super Science Me ti aspetta! Vieni con noi ad esplorare l'ignoto!